Ma loro avevano veramente una relazione normale, semplice e mi interessava riprendere questa normalità che noi non abbiamo più. Cioè loro veramente, vi facciamo vedere delle cose che io non vedevo. Quando vanno per esempio in una sequenza del documentario a raccogliere nel prato vicino a casa, che è un prato incolto, io vedo e noi, la maggioranza di noi, vede erbacce, un prato incolto, e loro in questo prato riuscivano a raccogliere una ventina di piante e con queste piante fare una minestra, e una minestra anche buonissima, quindi a mangiare qualcosa che noi non vediamo.